E il naufrago che deve abbandonare immediatamente la palapa è... Roberto Ciuccoli. Questo è il verdetto del pubblico, mi dispiace Roberto. Questa volta te l'aspettavi? Un applauso a Roberto. Roberto ti ha chiesto Hillary se te l'aspettavi? Ha detto Hillary, ti ha chiesto se te l'aspettavi. Sì, assolutamente. Ero sicuro di come sarebbe andata. E questo, guarda, per dirla come Grosso Marx, abbiamo passato una bellissima serata, ma non era questa. E allora Roberto, come sai, prima di abbandonare la palapa ti manca un ultimo sforzo, il bacio di Giuda, che sarà il tuo ultimo gesto da naufrago prima di lasciare l'isola. Quindi scegli uno dei tuoi compagni, bacialo e sarà la tua ultima nomination prima di uscire. Allora, mi avvicino.